Sono davvero sconvolto perché la legge sulla leale collaborazione che dovrebbe semplicemente recepire le istanze del governo è diventata una grande omnibus che significa finanziamenti a pioggia, adenti, associazioni, fondazioni. Tra l'altro sono anche maggiormente sconvolto perché si è approvata una legge sulla cultura, ci avevano messo a credere che non ci sarebbero stati più finanziamenti a pioggia, purtroppo in questa legge si continua a fare finanziamenti a pioggia. Oltre 600 mila euro di finanziamenti a pioggia senza nessuna valutazione, gara o evidenza pubblica, ma la cosa che grida vendetta è che nel mentre si danno finanziamenti a pioggia si tolgono 5 milioni di euro per gli aiuti alle famiglie per contrastare il caro bollette. Avevamo fatto una grande battaglia in sede di bilancio, avevamo fatto stanziare questi 5 milioni di euro, il centrodestra guida di Regione Abruzzo, Lega, Fratelli Italia e Forza Italia, toglie, cancella con colpo di spugno i 5 milioni di euro per aiutare le famiglie e dà oltre 600 mila euro di finanziamenti a pioggia, ad associazioni, a fondazioni, a enti. Ecco questo è il modus operandi che contrasteremo con tutte le nostre forze. Si farà una grande opposizione e ostruzionismo in commissione anche domani in consiglio regionale. Poi in questa norma, sempre in questa norma, oltre a questi emendamenti intrusi, fortemente intrusi, io li considero, ci sono due emendamenti che stravolgono il parere obbligatorio dei revisori dei Conti. Quindi se si approvano, se dovessero essere passare questi emendamenti, non verrà richiesto più il parere dei revisori di molto prima dell'approvazione del bilancio, ma magari all'atto dell'approvazione del bilancio, quindi semplificando molto le cose, ma togliendo un'arma importantissima alle opposizioni per poter verificare la legittimità del bilancio. Tra l'altro c'è anche un altro emendamento che è contesto e che riguarda le commissioni giudicatrici, le commissioni di assegnazione delle case popolari, si va a stravolgere anche questo sistema. Io mi auguro che il Regione Abruzzo cassi questi emendamenti appoggi e ripristini 5 milioni di euro. Quella è l'unica cosa da fare, 5 milioni di euro per le famiglie sono stati cancellati, la maggioranza si deve assumere la responsabilità di ripristinarli, perché le famiglie chiedono questi aiuti.